L'aumento dei contagi in territorio ebleo non accenna a rallentare, nonostante si tratti di circa 30 positivi in più riscontrati nelle ultime 24 ore. Numeri non allarmanti, ma che comunque devono far mantenere sempre alta l'attenzione. Preoccupazione soprattutto a Ragusa, che sfiora i 400 positivi e commiso con quasi 200 casi. Aumento dei contagi che porta i cittadini a una maggiore consapevolezza sull'importanza della vaccinazione. Per questo ritorna l'Open Day AstraZeneca, iniziato già oggi in tutti gli hub vaccinali della Sicilia, che si concluderà domenica. Le aziende sanitarie siciliane dovranno predisporre tre distinte corsie per gli utenti. Una destinata ai soggetti aventi diritto, che hanno eseguito regolare prenotazione tramite portale dedicato. Un'altra, Open Line, dedicata a soggetti over 60 non prenotati. Infine, la terza, per soggetti aventi diritto, già muniti di tutta la documentazione precompilata dal proprio medico di medicina generale. Alle tre tipologie di accesso possono accedere indifferentemente tutti i cittadini over 80 senza alcun vincolo di prenotazione al fine di facilitare l'accesso e quindi ridurre al minimo i tempi di attesa. Queste invece le immagini del lab dell'ospedale civile di Ragusa di ieri. Ancora una volta lunghe code e assemblamenti fuori controllo che hanno provocato la solita arressa tra i cittadini, tanti in attesa di vaccino. Tra loro anche quelli del giorno precedente, ma rinviati per carenza di dosi Pfizer, quelli prenotati per la stessa giornata ed in più anche chi era in attesa della seconda dose. A saltare sempre le prenotazioni e le attese sono durate in certi casi anche oltre quattro ore. La buona notizia è che sono arrivati in giornata i rifornimenti Pfizer da somministrare soggetti ritenuti fragili e che tutti i presenti, malgrado i disservizi di ieri, sono comunque stati sottoposti a vaccinazione. Vaccini che ormai possono essere effettuati anche dai medici di base e nel ragusano, su 241 hanno dato la propria disponibilità in 165. La maggior parte vaccinerà nei propri studi, mentre altri all'interno degli hub o a domicilio nei casi più a rischio.